Buona giornata amici da Massimo Foghetti, oggi è lunedì 3 ottobre 2022, bentrovati nella rassegna stampa di Fano TV, leggeremo insieme i giornali con cronaca locale, dal resto del Carlino e dal Corriere Adriatico. Bene, iniziamo subito il nostro colloquio, il nostro incontro con l'almanacco del giorno. Oggi vediamo che si festeggia San Gerardo di Brogne. Brogne è una località del Belgio, nobile di nascita, consacrò la sua vita alla fede e soprattutto alla causa della riforma dell'ordine monastico. Insomma, propugnò il ritorno ad una vita eremitica, una vita fatta più di sacrifici e di stenti rispetto ad un rilassamento di quello che era l'ordine conventuale del suo tempo, visse intorno al X-XI secolo. San Gerardo di Brogne. Ed ora diamo un'occhiata invece alle previsioni del tempo. Vediamo come oggi sarà una giornata in prevalenza poco, poco nuvolosa, salvo una presenza di nubi sparse al mattino. I venti saranno al mattino, spireranno da una direzione di nord-nord-ovest e così anche nel pomeriggio con una tendenza di deviare verso nord-nord-est. Il mare continua a essere mosso, le temperature si aggireranno dai 17 ai 22 gradi. E vediamo anche una bella immagine di Pesaro questa mattina, il cielo è ancora grigio, il sole ancora deve alzarsi sopra l'orizzonte. L'alba, come dicevo, è avvenuta alle 7, avverrà alle 7.05, quindi tra pochissimi minuti. Comunque questa è una bella immagine di Baia Flaminia, è lassù il monte San Bartalo, oltre c'è Gabicemonte, Gabicemare, Cattolica, Riccione, Rimini, insomma poi tutta la Romagna. Ebbene, ora diamo invece un'occhiata ai giornali guardando la prima pagina del resto del Carlino che è in edizione oggi regionale. Le pagine sono un po' contratte per quanto riguarda le notizie locali. E quindi diamo un'occhiata subito alla prima pagina. Strade pieni di buche, ecco dove sono. Una mappa logistica per quanto riguarda la città di Pesaro. Il Carlino propone un viaggio tra le vie dissestate, peggiorate per le ultime occasioni del maltempo. Gli incidenti sono in agguato, si chiedono interventi. Quindi sappiamo come spesso una buca può dare una sterzata al volante e quindi indurre la macchina ad andare fuori strada oppure incoccare con un'altra. Il caro Energia, il caro Energia sempre presente nei quotidiani da diversi giorni. Il titolare della bevanderia, non so quanto resisterò, gravato da bollette così. E sono veramente bollette che stanno schizzato alle stelle. Ma schizzeranno ancora di più nei prossimi giorni dopo l'aumento che è stato approvato nei giorni scorsi. E poi abbiamo una caccia ai furbetti del Limo. A centinaia non pagano e quindi si cerca di coprire l'evasione. Parto in caso a Matelica, muore la neonata, operata la madre. Diceva, non sapevo di essere incinta. Una emoregia purtroppo intervenuta subito dopo il parto ha provocato gravi problemi a questa donna con la conseguenza della morte della figlioletta. A Dancona un bello spettacolo alla regata del Conero ha vinto l'Olanda. A Iesi invece scoppia una rissa per gelosia davanti al McDonald's. Mentre al passetto di Ancona un richiedente asilo è stato derubato anche dei farmaci. Salva vita, insomma hanno fatto un manbassa di tutto. E poi un funerale, il funerale di Noemi. Una delle vittime dell'alluvione, è morta anche la mamma. Ebbene l'alluvione, magliette nere, i fiori bianchi per l'addio a Noemi aveva solo 17 anni. A Tolentino un incidente fatale. A 21 anni il dolore del fratello. Anche qui un grave lutto. E poi per quanto riguarda l'assistenza, Villa Cozza, la casa di riposo in emergenza per i rincari. Concludiamo l'esame della prima pagina con una notizia che ci giunge da macerata. Parto in casa, muore la neonata, operato la madre. Insomma vediamo come le notizie si ripetano. Giriamo la pagina e vediamo quello che è accaduto in questo caso a Tolentino. Emanuele, dolore senza fine, il fratello amava la vita. Tolentino è sotto shock per la morte di un ventunenne in un incidente. Migliora l'amico. Il ricordo di Alessandro era dedito al lavoro, ma si sapeva anche divertire. Era un ex calciatore. Fiori e striscioni allo stadio della Vittoria. L'omaggio dei tifosi. Buon viaggio, fratello. E qui vediamo la fotografia di Emanuele Mosca, deceduto a 21 anni. A sinistra l'omaggio, l'omaggio di un giocatore appunto per la sua passione sportiva. E qua abbiamo il grave fatto di cronaca che è avvenuto in seguito ad un parto. Una neonata muore subito dopo essere nata. La madre non sapeva di essere incinta. La frase è tra virgolette perché è una dichiarazione fatta dalla stessa madre. Tragedia matelica. La piccola è spirata poco dopo essere venuta al mondo. Indagano però i carabinieri. La donna portata all'ospedale di Macerata in condizioni critiche per una emorragia. Ora però è fuori pericolo. La bambina sarebbe arrivata alla 35esima settimana. La gravidanza era ormai al termine. Insomma bisogna capire perché questa donna non ha capito di essere incinta e quindi non è ricorsa a tutte le cure che il sistema sanitario poteva offrirle. Giriamo la pagina e vediamo come anche le case di riposo soffrano dell'aumento del caro vita. Salasso, luce e gas aumenti addirittura del 200% e del 300% in due anni. Senza aiuti dalla regione le rette per gli ospiti aumenteranno. I fondi non bastano per mantenere, per offrire un'assistenza adeguata a tutti gli ospiti di queste case. E quindi anche i gestori di questi ospizi, di queste case di riposo, cercano di correre ai ripari per mantenere il loro degli ospiti livello di vita. E qua abbiamo un altro caso, un altro effetto per quanto riguarda il caro Bollette. Mi serve un altro lavoro per pagare le bollette. Andrea Morini, di 39 anni, titolare del bar La Bevenderia, in Via Dandolo, per ruotare le entrate va anche all'astra. Qui non ci aiuta nessuno. Comercianti travolti quindi dal caro Bollette. Questo è un esempio, uno per tutti, perché non è solo lui che soffre, ma è tutta la categoria. Ed ora diamo un'occhiata alle due pagine che il resto del Carlino riserva per Pesaro. L'articolo di apertura è dedicato al foglia, agli argini del foglia. Ora parte l'abbancamento. Che cos'è l'abbancamento? Sono nuovi i lavori che devono essere compiuti dopo lo scempio del febbraio scorso che portò al taglio indiscriminato di 2.000 alberi. Ci risiamo dunque. Si torna a parlare degli argini di questo fiume nell'area verde tra il ponte di Via Ponchielli e il ponte di Portarimini. Questo lo si legge nella determina di Aspes, quale ente incaricato del verde pubblico in risposta alla richiesta di procedere con i lavori avanzata dal consorzio di bonifica, il quale ha stimolato appunto l'azienda ad intervenire subito per cercare di riassestare l'ambiente naturale intorno al foglia. E poi vi avevo annunciato un articolo sulle buche di Pesaro e qui vediamo l'articolo che si estende a fondo pagina. Strade gruviera, ecco dove sono. Incidenti e pericoli in agguato. Le piogge hanno aggravato lo stato di manutenzione di molti asfalti nelle strade pesaresi. Sollecitati interventi immediati. In particolare la strada Monte Feltro, ma anche Via della Liberazione, la rotatoria di Villa Fastigi sono in abbandono. E qua c'è un articolo che riguarda soprattutto alcune vie, in particolare stato di degrado. Non a caso è partita l'asfaltatura di Via Togliati per poi continuare con Via Solferino, Via Cavalcanti, Via Ceccarelli. I marciapiedi di Via Orlando, soprattutto nei pressi della scuola Rodari. E in fase di ultimazione l'intervento in Via Passeri. Mentre dovrà partire la manutenzione straordinaria del secciato di Piazzale, primo maggio. IMU evasa per 850 mila euro. Ora il Comune batte cassa. In caso annuale di questa tassa, che il Comune di Pesaro riscuote, è di 20 milioni di euro. A pagare è il 90% dei contribuenti, il che vuol dire che un 10% si tratta di evasori. Caccia dunque a quel 10% che non ha versato il dovuto. Gli accertamenti sono in arrivo. E in questo caso, quando arrivano gli accertamenti, non si paga soltanto l'importo della tassa evasa dell'ultimo anno, ma poi si va anche indietro e quindi la somma può aumentare di parecchio. Arretrato tasi per 62 mila euro è la tassa che ora non c'è più. C'è anche dunque, oltre a LIMU, c'è anche l'arretrato della tasa, servizi indivisibili del Comune che va considerato. L'amministrazione di Pesaro, attraverso l'Aspes, ha riscontrato un'invasione fino al 2020. Poi la tassa è confluvita nel LIMU, pari a 62 mila euro. Ad essere interessati sono 118 contribuenti che non l'hanno versata. Per questo l'ufficio Tributi ha avviato l'iter per il recupero della somma, il cui esito però è tutto da vedere, perché bisogna vedere poi se queste persone sono in grado di pagare. Oppure nei loro confronti scatteranno quei provvedimenti che sono così antipatici, scusate la parola perché infieriscono su delle persone che sono in uno stato di grande fragilità per cercare di recuperare il dovuto da parte del Comune. Questo per quanto riguarda il resto del Carlino. Ora diamo un'occhiata invece al Corriere Adriatico, cominciando dalla pagina di Fano, dove vediamo che l'apertura riporta ancora un episodio avvenuto nell'ultima seduta del Consiglio Comunale, quando ci sono stati diversi problemi in seno alla maggioranza e quindi di riflesso anche nei confronti della Giunta. In questo caso si parla di una iniziativa che è stata portata all'attenzione della maggioranza da parte della Lega. Ebbene, che cosa è accaduto? È accaduto che il Comune di Fano ha perso dei finanziamenti per un errore che è stato compiuto nel compilare, nel presentare una domanda di partecipazione ad un bando per avere delle risorse. Risorse importanti perché si riferivano al rifornimento di genere alimentari alle famiglie in difficoltà. Avrebbe potuto ricevere il Comune di Fano 40 mila euro, magari per acquistare anche un camioncino, una vettura per portare queste derrate alimentari a destinazione alle famiglie che ne avevano bisogno. E poi c'erano anche 8 mila per spese correnti, spese di formazione, di comunicazione e via dicendo. Ebbene, questi contributi sono saltati perché nel redigere la domanda non si è allegato il conto economico né il cronoprogramma. E la Regione che cosa ha fatto? Mentre in passato diceva guardate mancano questi documenti, ce li fate riavere e quindi poi procedeva con l'istruzione della domanda, questa volta ha detto no, voi non ci avete presentato questi documenti e quindi siete esclusi e ha dato i soldi, probabilmente erano pochi, ad altri Comuni. E quindi ne hanno guadagnato Comuni come Cagli, San Benedetto del Tronto, Belforte, Alisauro, Iesi, Falconara Marittima, Monte Prandone, oltre che Pesaro. Insomma erano Comuni più piccoli, a parte Pesaro, molto più piccoli di Fano e Fano è rimasto all'asciutto. Ebbene di questo errore tra virgolette se ne è assunto la responsabilità l'assessore al welfare Dimitri Tinti, il quale non è che lui ha commesso materialmente l'errore, l'errore l'hanno commesso i tecnici e il suo assessorato, ma politicamente essendo lui responsabile di tutto ha detto sì, l'errore l'ho commesso io. Ma alla Lega non è bastato, perché ha detto non basta riconoscere l'errore, occorre condividere la responsabilità di quanto è avvenuto. Insomma la Giunta è corresponsabile perché deve controllare che tutto vada per il meglio e così non è avvenuto. E quindi c'è un attacco in modo particolare del capogruppo della Lega Gianluca Ilari. E lo vediamo nella foto. E poi in questo articolo di fondo invece abbiamo una giustificazione di uno dei tre consiglieri del Partito Democratico che non ha approvato l'immediata eseguibilità in una variazione di bilancio che avrebbe portato finanziamenti su importanti lavori pubblici. Ebbene questi finanziamenti slitteranno con qualche rischio per gli stessi lavori, così come ha detto il sindaco Massimo Serio. Ebbene è Giovanni Clini, è uno dei tre insieme a Giacomoni e a Luccioli che sono usciti dai banchi al momento del voto e quindi si sono astenuti dal votare questo requisito di fare presto per accelerare i tempi per quanto riguarda la delibera e dice che molti dei contenuti di questa delibera, cheppure è stata approvata, non era stata condivisa completamente dalla maggioranza e quindi c'è stato questo atteggiamento di carattere critico. E poi vediamo come la notizia della realizzazione di un parco fotovoltaico a Carrara tra Carrara e Cartoceto, tra Carrara e il comune di Cartoceto ha suscitato anche le reazioni del sindaco di questo piccolo comune di Enrico Rossi. L'impianto agrivoltaico altera il patrimonio rurale e il microclima, lo ha dichiarato il sindaco. Si unisce così alla protesta di Fanno contro il grande parco. Installare tra le colline cartocetane e fanesi un impianto agrivoltaico di 45 ettari equiparabile ad una superficie di 60 campi da calcio per oltre 28 megawatt di potenza significa cancellare l'attuale morfologia del nostro territorio, alterarne il valore ambientale e il microclima. Questa è stata la posizione appunto del sindaco di Cartoceto, Enrico Rossi. Ed ora vedremo come andrà a finire la presentazione di questa domanda che è stata avanzata al comune di Fanno. si parla spesso di cercare di non dipendere più dalle forniture estere poi invece quando si tratta di produrre l'energia in casa nostra solgono alcuni problemi ma questi vanno considerati per la reale dimensione che essi hanno e che essi determinano. Dunque è giusto considerarla molto molto bene. Il Vescovo di Fanno sopprime la parrocchia di San Marco. Il territorio sarà diviso tra le tre comunità confinanti. La parrocchia, questa è una decisione storica perché la parrocchia di San Marco in Sassonia la parrocchia di San Marco evangelista nel quartiere di Sassonia ma anche nel quartiere diciamo così di origine malatestiana quella oltre le mura romane della città di Fanno quella che è stata ampliata dai malatesta è una parrocchia di carattere storico. La parrocchia di San Marco evangelista nel quartiere di Sassonia nell'ambito della vicaria 1 della diocesi di Fanno Fossombroni-Cagliepergola viene soppressa e il suo territorio è suddiviso tra le tre parrocchie confinanti ovvero San Giuseppe al Porto la parrocchia della Catedrale Santa Maria Assunta e la Gran Madre di Dio a San Lazzaro. La decisione è stata assunta con decreto dal Vescovo Armando Trasarti su proposta del Consiglio Presbiterale avendo a cuore il bene primario dell'accompagnamento spirituale dei cristiani così dice la motivazione specialmente delle giovani generazioni. I padri agostiniani della Chiesa del Porto provvederanno alle messe nella Chiesa di San Marco in Sassonia il parroco della Catedrale a quelle nella Chiesa di San Marco di Via Nolfi i servizi della Catechesi saranno garantiti anche dalla parrocchia della Gran Madre di Dio a San Lazzaro. il quartiere di San Marco in Via Nolfi il quartiere di San Marco alla parrocchia di San Marco in Via Nolfi era nota e nota anche per il grande presepo che uno dei suoi parroci Don Marco Polverari aveva realizzato prima nell'atrio della Chiesa nell'atrio del piccolo conventino delle Suore che sono lì nei pressi e poi nelle cantine di Palazzo Fabri uno dei tesori veramente della nostra fede e della nostra attrazione turistica. Vediamo anche qualche notizia sulla Val Cesano efficientamento energetico finanziati i lavori nel teatro sono i soldi del PNRR sono in arrivo 250 mila euro e il sindaco Sorcinelli annuncia veramente con soddisfazione questi lavori un caro saluto con tanta nostalgia Catena Fiorello, Galeano, ospite della rassegna Passaggi Festival l'aveva scritta sulla bacheca della pagina social del Teatro della Concordia a San Costanzo quest'estate alla fine di luglio per salutare gli amici sancostanzesi che l'avevano ospitata in piazza Padre Pio durante la rassegna Passaggi Festival uno dei primi decentramenti di questo festival che ormai ha raggiunto la decima edizione che si è svolto con grande successo anche quest'anno in piazza e in diverse location a Fano la scrittrice siciliana è rimasta emozionata e commossa di fronte alle bellezze di San Costanzo e soprattutto per il Teatro della Concordia che ora viene ancora di più valorizzato per i lavori che si stanno compiendo e vediamo ora le notizie che ci giungono da Pesaro e che vengono pubblicate dal Corriere Adriatico ricominciamo dal caro energia cassa integrazione di massa di molte aziende molte non gliela fanno più e quindi sono costrette a chiudere le bollette triplicate, quadruplicate rispetto ai valori tradizionali fanno sì che molti operatori, molti imprenditori siano costretti a chiudere bottega questa è l'allarme della CGL le bollette salasso minano i posti di lavoro e quindi ne risenta anche l'occupazione in difficoltà soprattutto i settori della gomma plastica, vetro e metallmeccanica sono queste le aziende che utilizzano i forni e non si possono permettere di limitare i consumi perché i forni devono restare accesi in ginocchio anche l'artigianato dei prodotti alimentari in prima fila i fornai, i panificatori, i pasticceri tra macchinari energivori e consumi in picchiata e per la CGL troppo scarsi sono gli investimenti delle aziende nelle energie alternative il nodo del difficile accesso al credito delle banche locali e la concorrenza dei mercati asiatici le bollette dimezzate grazie al fotovoltaico il cotitolare della Neomec Barilari spiega l'investimento fatto e c'è chi ha avuto l'avvertenza di investire nelle energie alternative ora soffre di meno non è che non soffre però insomma riesce a sbarcare il lunario grazie appunto a questi investimenti e poi vediamo come ancora imperversano le bande dei ragazzini nei parchi pubblici a Pesaro con atteggiamenti e azioni che sono veramente delle provocazioni le bravate del sabato sera nel mirino parchi e giardini segnalazioni di vandalismi giungono da Villa San Martino da Pantano e da Cinque Torri alle Cinque Torri si lamenta che in giro è tutta una cartaccia insieme a lattine e bottiglie vuote dice un residente porta spasso il cane due volte al giorno e faccio un giro largo prendo più giardini tra il campus scolastico e la zona degli impianti sportivi e noto se ci sono state la sera o il pomeriggio precedente presenze o meno esagerate sì ci sono e ci sono frequentemente la lagnanza è la stessa anche per i parchetti nella zona di Pantano ma anche a Muraglia e a Monte Granaro quando le compagnie si ritrovano facendo le ore piccole spesso con l'alcol al seguito e poi veniamo al Miralfiore al Miralfiore sappiamo che ci sono problemi di carattere di ordine pubblico ma ci sono anche problemi ambientali ebbene a Miralfiore è stato costituito un presidio e quindi è attivata anche una raccolta di firme per dire stop ai tagli degli alberi della vegetazione e all'elaborazione di un piano condiviso i comitati hanno indetto un sit-in per domenica prossima e nel Mirino c'è sempre l'assessore Belloni chiamato Mani di Forbice a Urbino lo sport è un sinonimo di salute e anche volano di turismo i temi saranno affrontati oggi all'Università di Urbino con esperti francesi e italiani e voglio prima di chiudere la nostra rassegna stampa dare un'occhiata anche ad una notizia di sport non è bella perché il Porto d'Ascoli ha battuto sonoramente il fano calcio che fino adesso ci era comportato benissimo il risultato non lascia così alcuna spiegazione così montata montata in alto Porto d'Ascoli 2 Alma Juventus 0-0 primato solitario per gli Orange che hanno la meglio anche su un'ottima alma gli ospiti restano in 10 Spagna e Fal firmano il successo sono questi i due giocatori del Porto d'Ascoli che hanno segnato i gol ai Granata di Fano vabbè adesso c'è da riflettere su questa sconfitta ma non perdere di coraggio perché insomma il bagaglio dei Granata dell'Alma Juventus Fano quest'anno sembra essere rinvigorito e questo è tutto Massimo Foghetti vi saluta vi dà appuntamento domani alle ore 7 come sempre per le notizie del giorno alle ore 20-30 con il TG di Fano TV Occhio alla notizia condotto da Simona Zonghetti e questo è tutto a risentirci del TG o Grazie a tutti.